Benvenuti al The National Inquisitor, sono il vostro Bizzak Mekraken. Ecco la nostra prima e unica notizia. Su cosa abbiamo costruito l'intera narrazione pandemica e il mito del contagio asintomatico? Su cosa si sono basate per due anni le curve dei contagi, delle ospedalizzazioni, dei decessi per morte rossa di Edgar Lampeau? Cosa è stato ritenuto inaffidabile e financo pericoloso in diretta a TV durante la trasmissione Che culone e baciaculono oggi di Fabio Falso da Bubu Bugioni? Cosa è che si basa sulla tecnica del test molecolare RT-PCR nonostante Carey Mullis, premio Nobel che l'ha inventata, ritenga quest'ultima inadeguata per la diagnosi? Cosa produce tantissimi falsi positivi a seconda del numero di cicli di amplificazione dell'RT-PCR? I TAMPONI! Cosa non serviva più per accedere ai luoghi pubblici e per lavorare, ai green passati e super green passati untori nonostante questi contagiassero lo stesso e risultassero positivi attraverso proprio il tampone? I TAMPONI! Cosa è stato reintrodotto per entrare in Italia e tolto per lavorare ad alcune categorie? I TAMPONI! I TAMPONI! Cosa devono fare ora i super vaccinati per andare al cinema e vedere i film di merda di Hollywood? I TAMPONI! Su cosa si basa tutta questa realtà illusoria e farlocca tenuta in piedi con lo sputo e con le cagate dei Vanna Marcology? I TAMPONI! 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 I TAMPONI!